Cosa è brutto? Come li fanno? Ma che cosa è questa? Al testa, sì! Ma per te come si ma... Dette... Per... Per.. Per me lo tozzo! Per me lo tozzo! Per me lo tozzo! Per me lo toço! Per me lo tozzo! Per me lo tozzo! Per me lo tozzo! No! Grazie